Compagnia di Massimo Giubertoni a commentare che questa partita si capirà anche dalla voce e dal mio tono combattutissima e portata a casa dopo ben due tempi supplementari Sì, combattutissima e fortunatamente direi, o meritatamente anche, portata a casa dopo due tempi supplementari e andiamo un po' a riscattare la bruttissima sconfitta della settimana scorsa, di domenica scorsa a Moncaieri Vittoria comunque d'orgoglio, di carattere, soprattutto nella parte finale dei tempi regolamentari quando eravamo un po' sotto, avevamo perso qualche punto di distacco, siamo riusciti a recuperare e direi abbastanza bene, nel primo tempo supplementare molto bene, nel secondo con delle iniziative di Belloni che mi sembra che aveva fatto dieci punti nel supplementare, quindi molto bene ci voleva, ci voleva per una boccata d'ossigeno per la classifica Urania che si è presentato qua al Pala CBL per la verità senza Mariani, quindi playmaker però anche noi avevamo l'assenza importante di Squeo, siamo però riusciti a sopperire anche per quanto riguarda i giovani che a Moncaieri avevano fatto sicuramente un'impressione non, eufemisticamente non positiva Eufemisticamente non positiva, sì, naturalmente l'assenza di Mariani per loro è ugualmente pesante come l'assenza di Squeo per noi, stasera Stanzani penso che abbia meritato di stare in campo tutto il tempo che ha meritato, si è dato da fare, ha combattuto e via dicendo senza nulla togliere a tutti gli altri, da Caversaccio che è quello che probabilmente gioca di più a Baldini e tutti quelli che sono entrati, stasera sono entrati tutti quindi merito a loro che si sono fatti trovare almeno questa volta pronti speriamo che si facciano trovare pronti anche nelle prossime occasioni ringrazierei anche il lavoro scuro che non viene mai citato di Nicoli che ha rimesso in piedi comunque Zampoli con un acciacco delle ultime ore gli ha permesso di giocare direi decisamente bene mettendo anche due tiri liberi del pareggio a tempo praticamente finito nei tempi regolamentari Questa era la prima partita del Girono di Ritorno adesso abbiamo settimana prossima un turno di riposo visto che i fenomeni della federazione hanno deciso così poi andremo a Firenze, un'altra partita sulla carta teoricamente abbastanza facile, ma Firenze è una squadra molto alterna e poi riceveremo l'attuale capolista del campionato che andrà poi a giocare anche le Final Four di Coppa Italia o Zinuovi direi piatto ricco, micifico Piatto Ricco, micifico noi come abbiamo detto ragazzi stiamo lavorando a cicli di partite perché non possiamo permettersi di fare altro il ciclo delle partite era Moncaieri, era Oragna e la terza era Firenze avendo buttato via Moncaieri abbiamo recuperato i due punti diventa fondamentale adesso la trasferta di Firenze perché è una diretta concorrente per noi e che ultimamente ha rimesso in piedi la sua classifica avendo comprato tre giocatori nuovi da non molto è una partita difficile, trasferta lunga, trasferta comunque insidiosa su un campo dove ci si va raramente, quindi si conosce poco partita che bisogna assolutamente portare a casa ci eravamo prefissati di fare almeno quattro punti in queste tre partite poi da Orgi Nuovi in poi riapriremo un altro ciclo sicuramente non dobbiamo fare la corsa su Orgi Nuovi ma dobbiamo fare la corsa su Firenze